cocktail di gamberi pulisco i gamberoni togliendo la testa, il carapace lasciando l'ultimo anello e la coda e togliendo il filetto nero sul dorso dopo averli sciacquati li asciugo e li schiaccio un po' dalla testa alla coda con le dita per non farli arricciare una volta schiacciati tutti salo l'acqua bollente, metto i gamberi e li faccio cuocere per un minuto poi li tolgo e li metto in acqua e ghiaccio per fermare la cottura ora faccio la salsina con maionese, ketchup, un cucchiaio di brandy, un cucchiaio di salsa worcester e mescolo nel bicchiere metto la lattuga tagliata a striscioline, la salsa, immergo i gamberi nella salsa dopo averli asciugati bene una fettina di lime per guarnire e buon appetito